Sono Marina Bordese, candidata alle elezioni dell'8-9 giugno per il rinnovo del Consiglio regionale per la provincia di Torino con la lista di Fratelli d'Italia. Vorrei poter portare la mia esperienza amministrativa di amministratore locale di Villafranca da 20 anni in Consiglio regionale e poter rappresentare tutto il territorio pinerolese, dalla pianura alle vallate, in modo da poter far sentire la nostra voce anche in regione, la voce delle piccole realtà locali, dei piccoli comuni di pianura, delle realtà agricole e delle zone pedemontane e montane che spesso si sentono un po' abbandonate dalla regione con questa visione torinocentrica.